Sarà una priorità perché ritengo che l'area che abbiamo adiacente all'aeroporto, adiacente al vallato, sia una grande risorsa che è stata trascurata e che con uno sforzo minimo può diventare un'area utilizzabile per i giovani, per i bambini, per gli anziani, dove giocare, dove fare lettura, dove passare il tempo libero e credo che quell'area, se giustamente piantumata e resa fruibile e tenuta in un certo stato, in un certo decoro, può aumentare la qualità della vita della nostra città e credo che questa sia una priorità come lo è la vivibilità, l'accessibilità, le piste ciclabili, ma soprattutto quest'area all'interno, così all'interno del centro abitato, solo fa non ce l'ha e quindi è un valore aggiunto, solo che è stato un po' trascurato, anche i progetti fatti con il professor Salbitano poi non sono andati a buon fine, non è stata data esecuzione a quell'idea, a quel progetto, adesso insieme magari all'associazione e al quartiere può diventare un'area sviluppo, quella del parco, però il parco va qualificato, la strada che la taglia in mezzo andrebbe rivista perché ovviamente toglierebbe la fruibilità del parco, ma soprattutto va tenuto in un certo decoro perché se si vuole utilizzare, se si vuole far giocare i bambini, il verde e tutto quello che c'è intorno ad un parco va reso idoneo, va pulito, va tenuto bene, questo va fatto anche insieme alle associazioni che secondo me in un progetto di qualità della vita possono partecipare volentieri, in più ci sono dei fondi per la forestazione urbana che attraverso le regioni vengono spesi e noi dobbiamo riuscire a rientrare in una progettazione in modo che quell'area diventi effettivamente un parco, che non è in antitesi all'aeroporto e che non si contrappone all'esigenza magari di rendere sicura la pista o comunque di fare un aeroporto che abbia un valore turistico commerciale, ma il parco è qualcosa che abbiamo e che va valorizzato.